Un tempo si chiamavano micro asili, ora si chiamano asili diffusi e Società Dolce ne ha proposti diversi, non soltanto a Bologna ma in particolare a Casalecchio di Reno. Ecco qua uno degli esempi principali. C'è questa voglia di essere flessibili, questa voglia di fare un regalo che magari può essere pensato come cosa ma insomma è un po' sciocco. In realtà non tutti partono dalla stessa storia per cui non tutti nel mondo di oggi abbiamo delle persone a cui poterci appoggiare, magari la famiglia è lontana, si è un po' tutti in giro. Non è detto che comunque anche se le famiglie sono vicine, non è detto che necessariamente si sentano in grado di poter sostenere un genitore durante la formazione del proprio figlio, mi viene da dire. È una responsabilità grossa. Di conseguenza questa è Sera Dolce Sera principalmente per un regalo per i genitori che magari addirittura vanno a fare la spesa per la prima volta dopo anni insieme, che sembra una sciocchezza ma non lo è, o semplicemente un pretesto per ritrovarsi, bersi qualcosa, stare insieme. È un motivo di gioco in più per i bambini. Tanti punti di novità, in particolare un grande rispetto verso la famiglia e i suoi orari. Siamo un po' in riassetto, nel senso stiamo un po' cambiando modalità di proposta di gioco, anche un po' in linea con la formazione montessoriana che abbiamo fatto quest'anno. Prendiamo un po' spunto da tutto, questa è la realtà, cerchiamo di creare le cose un po' passo passo, però prendendo spunto da varie cose. I materiali soprattutto sono in fase di restauro, soprattutto ultimamente, dove stiamo andando e ci siamo, ma in realtà è proprio una questione di cooperativa, ci siamo più indirizzati verso un utilizzo di materiale consapevole.